Il 21 luglio all'Arena Plautina di Sarsina parte il primo appuntamento del Plautus Festival, 59esima edizione. Si parte con Menekmi. Menekmi, Menekmi con Massimo Venturiello, una comedia che tratta il tema del doppio, dove ci sono due gemelli che creano confusione all'interno di quella che è Epidamno. Menekmi è una delle opere più divertenti di Plauto e una delle più rappresentate in assoluto. Ci sono edizioni fatte da tantissimi attori noti del programma teatrale nazionale. È una produzione della compagnia stabile del Plautus Festival che si chiama Teatro Europeo Plautino, compagnia fondata nel 2013 da me e con altri colleghi che hanno scelto di lavorare e vivere a Sarsina. Si parte con uno spettacolo di Tito Maccio Plauto o è il vostro cittadino più illustre direi? Assolutamente. Quest'anno addirittura abbiamo quattro spettacoli che prendono, se non direttamente, ispirazione da Tito Maccio Plauto. E assolutamente ogni estate è d'obbligo avere minimo due, tre, quest'anno addirittura quattro spettacoli legati al nostro commediografo.